Il progetto Unione fa la forza, a cui partecipano varie istituzioni lombarde e milanesi, con la regia della Prefettura del Capoluogo Lombardo, passa dalla prima fase sperimentale e emergenziale alla fase 2, quella strutturata. Lo si è deciso durante il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, in cui è stato fatto il punto sull'attività svolta a Rogoredo, in attuazione del progetto voluto e coordinato dalla Prefettura. Un modello operativo che è stato già esteso in altre aree, ad esempio al Parco delle Groane, e sarà utilizzato in altre realtà della Regione interessate dal fenomeno della droga in costante aumento. Alla seduta di Comitato era presente anche l'assessore regionale Giulio Gallera per gli aspetti sociosanitari. Gli interventi previsti dal progetto erano articolati in tre ambiti principali, la prevenzione e il contrasto alle attività illecite, la riqualificazione dell'area e il recupero dei tossicodipendenti. Nell'ultimo periodo, da marzo 2019 a oggi, sono stati 130 i denunciati e 26 gli arrestati, 100 sono stati segnalati come consumatori, 50 i fogli di via emessi dal questore. L'attività svolta ha consentito una riduzione sostanziale dei frequentatori dell'area e la cessazione dell'effetto di emulazione, soprattutto da parte dei minorenni. Per quanto riguarda l'attività di riqualificazione, prosegue l'attività di Italia Nostra in convenzione con il Comune, che costituisce un importante presidio di sicurezza e legalità. La fase 2 del progetto supera la logica emergenziale e si traduce concretamente in interventi di carattere medico-sanitario, con la presenza al Bosco di Rogoredo di medici del CERT. Saranno previste adeguate risorse finanziarie da parte della Regione, con il coinvolgimento del Comune per gli aspetti connessi ai servizi sociali. Dall'inizio del progetto Unione fa la forza sono stati registrati oltre 300 interventi di natura sanitaria, di cui tre con interventi salvavita. Oltre 100 persone sono state avviate verso percorsi di recupero. La fase 2 del progetto, da luglio 2019 a gennaio 2020, intende favorire l'aggancio e inserimento nei programmi di presa in carico dei tossicodipendenti attraverso un potenziamento delle attività ambulatoriali e residenziali e costituirà una risposta non solo per Rogoredo, ma per tutta la Lombardia. Grazie a tutti.